Ciao, sono Marco Pacchetti di Sony Mobile. Che lavoro fai? Mi occupo di prodotto in Sony Mobile, quindi seguo tutta la parte telefonia di Sony. Che giorno è oggi? Difficile, è venerdì. La data precisa la sai? No, siamo all'IFA, non me lo ricordo. Forse è il primo di settembre. Quali prodotti presentate qui a IFA? Abbiamo presentato tre smartphone, due di fascia alta importantissimi che si chiamano XZ1 e XZ1 Compact e poi un prodotto in fascia media che si chiama XA1 Plus. Sono tre prodotti Xperia con tutto il meglio dell'esperienza Sony. Qual è la caratteristica che ti piace di più della serie XZ? XZ1 e XZ1 Compact hanno una caratteristica unica che è la scansione 3D. La possiamo provare insieme e vi invito a vederla poi al di fuori dello stand. Perché dovrai scegliere un telefono Xperia e non un telefono della concorrenza? Perché c'è il meglio della tecnologia di Sony, nel display, nella fotocamera, nell'audio e tante novità come abbiamo visto, come abbiamo detto qui, presenti in IFA. Senti, ma la leggenda narra che tutti usino e cerchino componenti Sony. È vero? È vero. Tanti li cercano, tanti li vogliono, ma i migliori li teniamo noi e sono in casa nostra. Vabbè, vediamo se sei preparato. Che telefono stai usando tu adesso? Un Xperia XZ Premium. È qua. Perfetto Marco, ti ringrazio. Di solo ciao. Ciao e grazie a voi.